Sindaco, sulle scoglievi qual è la posizione dell'amministrazione? No, adesso non voglio far polemica, però è anche una questione di stile, perché ieri abbiamo fatto un incontro sollecitato dall'assessore regionale e poi vediamo che finito l'incontro, di nascosto si vanno a fare dichiarazioni. Non mi appartengono questi comportamenti, poi ognuno è libero di fare come ritiene opportuno, ma quando si hanno delle responsabilità io mi aspetto un comportamento diverso. Detto questo ci sono molte imprecisioni, devo dire ringrazio l'assessore per la sensibilità e la struttura tecnica della regione che ha spostato pagina sul titolo dei fondi europei utilizzati per questo che ci dà più tranquillità perché consente di rendicontare entro il 2025 e non entro il 2022, però questo non significa che il percorso non è a buon punto, siamo ormai giunti all'approvazione esecutiva e alla gara d'appalto con un crono programma che vede l'ultimazione dei lavori marzo 2022, quindi in pieno programma. Però è chiaro che parliamo di mare, possono esserci degli inconvenienti, può succedere che le situazioni climatiche possono portare dei ritardi, quindi questa cosa è con senso di responsabilità, è una buona cosa e lo ringraziamo, però ne passa tra il dire che la situazione era tragica anche perché mi sembra che in questi anni siano stati ottenuti grandissimi risultati, 8 milioni di risorse destinate, lavori forti e importanti in Sassonia che si stanno ultimando e anche su questo vi viene da dire che la Comunistazione Comunale si è presa l'impegno di fare un ulteriore progetto sull'ultimo stallo, tenuto conto che abbiamo già fatto quasi tutti i lavori che termineranno in questo momento e nel progetto iniziale si prevedeva questa organizzazione perché sembrava fosse sufficiente, adesso lo vedremo poi anche con gli effetti al termine del lavoro, per cui siamo in perfetta regolarità, anzi proprio con senso di responsabilità noi prepariamo il progetto, poi se occorre si può realizzare e qui la Regione deve fare la sua parte e quindi al di là delle chiacchiere il vero ruolo della Regione è quello di trovare ulteriori finanziamenti, io spero e a questo punto direi bravo all'assessore regionale se riesce per il 2023 a mettere risorse per il secondo stralcio delle scogliere di Metauriglia e 300 mila Euro per la scogliera di Sassonia.